arriva 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 avanti un po' se non prendi abbastanza tu chi che ha fatto un tumore pronti via sei girato stai un po' a sinistra poi chiudi andiamo piano eh piano piano e la è tra i baselli qui adesso facciamo la tana della volpe andiamo di la wow devo andare a farlo qua salito la che non vengo eh no facciamo la tana della volpe adesso andiamo super liberati la tana della volpe qual'è qua lì? aspetta che scambio con l'edirica dai cifo su benissera vi ho gonfiacche benissera vi ho gonfiacche benissimo dura eh sarà anche troppo dura benissera allora vediamo aiuto oh 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 Beh, ma se sono passato io ti dico questa volta c'è giù una pianta no, non lo so, perché torna indietro? scende e poi risalviamo ma ci si passava di lì eh non lo so, perché torna indietro? Hop 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 E' un po' di legge che faccio solo. E' un po' di legge che faccio solo.